Siamo qui di pronte, è una piccola regiatrice, che è una parecchiatura che serve per determinare la resa e la produzione del regione in regio bianco e non è nient'altro che una mini piccola regeria in cui sono presenti tutti gli ordini di una regeria normale per passare dalla lavorazione della decorticazione del regione allo sbiancamento e al prodotto finale, quello che è il regio bianco. Un funzionamento è molto semplice, è molto naturale, nel senso che abbiamo un cono di pietra naturale che sfrega praticamente il prodotto su un cilindro oleolato e per lo sfregamento naturale abbiamo la decorticazione, abbiamo la perdita delle glomelle del riso e il cosiddetto primo stadio che ha riso integrale. Da qui, attraverso altri pulitori, abbiamo poi la creazione del riso commestibile che arriva sul tavolo. Per quanti verranno a visitare la nostra azienda è possibile alla fine della visita acquistare un assaggio dei nostri prodotti, i nostri risi, i nostri risotti, le nostre gallette di riso integrale senza aggiunta di sale e di niente e per portarsi a casa a un piccolo angolo della Drusiana a casa propria. Grazie.